salve a tutti ragazzi sono lex e bentornati nel canale dei carlitos torniamo oggi con un video con l'auto da rally l'abbiamo usata a un raduno a cazzano di tramigna il 28 agosto mi pare abbiate pazienza se siamo ancora scarsi e acerbi ma era la seconda volta che prendevamo in mano la macchina e ovviamente ci si può allenare solo in questi raduni perché per strada non la possiamo usare e la guida è completamente diversa da un'auto stradale spero che il video vi piaccia vi invito a lasciare un like in tal caso e iscrivervi al canale buona visione dove è la linea di partenza? lì al bongue? lì c'è un trattino rancione non scontrarsi con un muretto ah non volevi? no no dopo non va passi prima dopo qua non mi fido mai perché è anche un po' di sporco poi c'è questa che stringe le altre che vanno ancora, tanto per l'anima di partenza non lancio non incombra non 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 Buona, buona Buona, buona Buona, buona Buona, buona Buona, buona Buona, buona Buona, buona, buona Buona, buona, buona Buona, buona